12 giornate di squalifica sono veramente tante. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. A differenza della Serie A, della FIGC, delle nostre istituzioni che hanno assolto acerbi dalle ingiurie e frasi razziste nei confronti di Juan Jesus, Bentacur pagherà con una pena gravissima. Andremo ad approfondire bene quello che è successo. Voi mi direte cosa c'entra questo video, quello a Juve. Questo qua è un video in difesa della giustizia sportiva, delle differenze che ci sono tra quanto c'è da colpire la Juve e quanto c'è da colpire la terza squadra di Milano. Ragazzi, con calma vi spiego tutto e andremo ad approfondire. Iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito. Sono sempre qui per difendere il calcio in primis. È la mia Juventus. Poi lasciate un like, commentate e attivate la campanella così non vi perderete mai un video e siamo sempre live, ladies and gentlemen, madame and messieurs e signore e signori. I miei signori, quelli veri, quelli gobi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui. Un giorno sì, un giorno. Vi ricordate tutti quando Acerbi insultò, ingiuriò con frasi razziste? Juan Jesus. Vi ricordate come è stata la frase? Non la voglio ripetere perché è vergognosa nel calcio. Tutti ci aspettavamo, come si diceva, sette giornate, otto giornate di scuolifiche. Ebbene sì. In quel tempo Acerbi è stato assolto. È stato assolto. Si è creato un precedente, una vergogna che ne abbiamo parlate tutti. Perché lo stesso Juan Jesus se lo ha detto. Lui può rimangiarsi quello che vuole, ma a me mi ha dato del n. Non voglio proseguire. Poi Acerbi si giustificano. Ho detto che io ero arrabbiato, incazzato, neenne. Ragazzi, si è capito che Acerbi rischiava una maxi scolifica e saltare l'europeo. Poi l'europeo lo ha saltato lo stesso per un infortunio. Come dire, il destino a volta iaiai è crudele. A differenza della Premier League. Bendacur rivolge delle frasi razziste nei confronti di un suo compagno di squadra, Son. Una frase dove ha detto scherzava, non lo mette in dubbio, però può diventare pesante. E una federazione seria cosa fa? Squalifica. E rischia a 12 giornate. Bendacur ha detto a Son che gli asiatici talmente sono tutti uguali che può sembrare anche il suo cugino. Compagni di squadra, forse avranno anche un rapporto ottimale, saranno amici, non lo so. Fatto sta che la federazione inglese sta seriamente ora pensando di squalificare Bendacur. Ora arriva la differenza, arriva la motivazione del mio video di stamattina di mettere in evidenza quello che è successo. Due pesi, due misure. Due federazioni completamente diverse. Una federazione che quella italiana assolve a cervi da un insulto razzista. E poi ci lamentiamo perché in Italia ancora c'è razzismo nel calcio. perché non viene squalificato nessuno. A differenza dei tifosi della Juve che vengono da spati 180 persone per dei bu nei confronti di Lukaku. Che non giustifico, ma ricordiamoci che Lukaku ha provocato per una partita intera. E lì ovviamente scatta l'unica squalifica per razzismo scatta nei confronti dei tifosi della Juve. Per la cervi tutto passa liscio. In Premier ci hanno dato una dimostrazione e ci hanno dato due schiaffi a noi del calcio italiano come vanno le regole. Tu insulti, tu sei razzista, magari non sei razzista ma hai fatto una frase sincerosa razzista, tu paghi. Tu paghi con 12 giornate di squalifica quello che è successo a Bendacur. Ora dico io perché in Italia non è successo così? Voi direte ma in Italia siamo tutti buoni. No, forse perché dall'altro lato c'era la maglia nera azzurra. Non lo so, non lo so, non lo so. Però fatto sta che siamo passati sopra ad un grave caso, gravissimo caso di razzismo dove la squalifica di Acervi poteva essere la base, la partenza per dire stop al razzismo. Invece no, abbiamo lasciato passare un fatto grave lo scorso anno e oggi l'Inghilterra purtroppo sapete che io non ho molta simpatia per gli inglesi tutti sanno perché ci hanno dato un grande insegnamento di come si combatte il razzismo si combatte così non guardando in faccia nessuno non guardando la maglia che sia la nostra maglia che sia la maglia della mia squadra. Se un giocatore sbaglia va squalificato questo è quello che è stato fatto in Premier o questo è quello che in Premier faranno 12 giornate di squalifica per Bendacur in Italia invece e fido tutti a Tarallucci e Vino e viva l'Italia amici bianconeri se questo video di mattina è stato di vostro gradimento lo vedete pomeriggio lo vedete la sera lasciate un bel like poi mi raccomando commentate voglio sapere la vostra poi mi raccomando sempre la campanellina così non vi perderete mai un video e l'iscrizione al canale fino alla fine e forza Juventus e Giminevaio o Sabine di Gattuti Picciotte salutiamo